Ragazzi 10 secondi allo shop Vediamo un po' quello che uscirà Si uscirà qualcosa di nuovo Nuovamente paradosso ragazzi Perché sembra strano che non è rimasto per 48 ore Vediamo un po' che uscirà Ecco infatti di nuovo paradosso ragazzi Eccolo qui Un uomo senza occhi Senza viso A me non piace proprio C'ha un 50 come piede Vabbè poi c'è la donna ragazzi Col suo orsacchiotto L'unica cosa bella è l'orsacchiotto E il piccone ragazzi Il piccone è più che carino E il suo deltavlano Sembra la punta di A proto avventurata Vabbè ragazzi c'è di nuovo il ranger natalizio E la donna operazione zabaione E il suo piccone Una cagata pazzesca un'altra volta Furfante Non so che senso ha Visto che comunque Quella modalità del sapataggio Non la mettono più Bah Vabbè dettagli Però ragazzi specialista ricognitore Poi c'è il tai chi Poi c'è il black dance Poi ragazzi c'è il piccone Rigi orsetto Poi ragazzi c'è il fantino luccicante Per me sto shop Fa veramente cagare Ragazzi come al solito Fatemi sapere sotto nei commenti Se shopperete qualcosa E noi ci vediamo Al prossimo Video shop Grazie a tutti 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 Grazie a tutti